Sono con Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Lega Ambiente. Presidente, oggi si celebra la giornata più gioiosa di questo Ecoforum con la premiazione dei Comuni Ricicloni 2024. Quali sono i risultati di quest'anno? Sono risultati che migliorano quelli dello scorso anno, per noi questo è un motivo di grande soddisfazione. È un momento di gioia perché condividiamo con chi fa le cose sul territorio, dai comuni alle società che gestiscono il servizio di igiene urbana per loro conto, alle filiere industriali che ci sono dietro alla raccolta da parte dei comuni per valorizzare quello che viene raccolti in modo differenziato. È una conferma di quello che avevamo immaginato oltre 30 anni fa, siamo alla trentonesima edizione, credevamo molto a questa filiera del riciclo da raccolta differenziata e i numeri sempre più importanti, nonostante la sticella degli obiettivi europei diventi sempre più alta, i numeri sempre più importanti confermano che avevamo visto giusto agli inizi degli anni 90 quando decidemmo di iniziare questa avventura. Ecco però qualche criticità ancora c'è. Beh ci sono criticità un po' in tutta Italia, ci sono esperienze positive e best practice in tutta Italia. Ci sono anche delle criticità evidenti, la città di Roma, la città di Palermo, la Liguria nel nord Italia fa fatica rispetto alle altre regioni del nord. Però insomma crediamo che ormai i modelli di raccolta che garantiscono le migliori performance di differenziata finalizzata al riciclo ormai sono molto chiari e vengono adottati, hanno iniziato ad adottare i comuni Lombardi e Veneti nella prima metà degli anni 90. Oggi è un'eccellenza anche in tanti capologhi del sud del paese, pensa a Lecce, pensa a Catanzaro, pensa a Cosenza, pensa a Ragusa, pensa ad Agrigento. C'è ancora un problema sulle grandi città, sulle metropoli e insomma credo che l'esperienza difficile di Roma sia la cartina di Tornasole e di come si possono fare le cose perché Milano è l'esperienza più avanzata di raccolta differenzata all'ambito metropolitano a livello internazionale e Roma fa ancora fatica perché non ha gli impianti giusti, non ha una società di raccolta e di genere urbana all'altezza della sfida e manca una guida politica che manca da troppi anni per far svoltare questa città come hanno fatto anche altre grandi città italiane, non solo. Ecco però visto che ha parlato di grandi città, Genova e Torino oggi portano un'esperienza specifica, tutto sommato molto importante sulla raccolta degli oli vegetali e dei grassi animali esausti, cioè praticamente gli oli prodotti dalle cucine, delle famiglie. Beh sono accordi importanti che ovviamente sono la condizione necessaria ma non sufficiente perché poi le raccolte si facciano in migliore dei modi. Quando l'accordo è propedeutico per fare poi una raccolta che avvicini ovviamente il cittadino utente alla filiera di recupero, sono esperienze che raccontiamo insieme al Consorzio perché crediamo che sia importante replicare queste avventure in tutti gli altri comuni, le città più grandi, i capoluoghi di provincia, i capoluoghi di regioni e le metropoli sono grandi serbatoi di olio vegetale esausto che se non viene raccolto in maniera differenziata finisce nelle fognature e questo dà una serie di problemi ai depuratori laddove esistenti e all'ambiente quando il depuratore o non c'è o funziona male e poi garantisce come dire una nuova vita a questi oli vegetali esausti per le filiere ad esempio dei biocarburanti che è una filiera crescente che dobbiamo cercare di promuovere sempre più, non dico a chilometri zero ma insomma non a chilometri 10.000, 100.000 o un milione. Parliamo proprio di promozione di questi prodotti, di questi materiali raccolti, proprio una battuta perché è vero, è importante raccogliere, è importante differenziare ma è anche altrettanto importante riutilizzare poi quel materiale che viene raccolto e riciclato. Beh è importante raccogliere, è importante assolutamente riciclare, raccontare dove questi prodotti poi finiscono, questo è importante per i cittadini perché devono sapere ed essere consapevoli che il loro sforzo non è vano ma si concretizza in qualcosa e bisogna anche sempre più, e siamo circondati di prodotti fatti dal riciclo, tante cose non le sappiamo, a volte l'imbottitura dei sedili delle automobili sono fatti in materiale riciclato, l'olio minerale che acquistiamo per lubrificare il motore delle automobili è fatto dalla rigenerazione di oli, a volte i carburanti sono fatti in parte con biocarburanti che arrivano dalla filiera degli oli vegetali esausti. È importante però che soprattutto le stazioni appaltanti pubbliche facilitino nel mercato l'ingresso dei prodotti che derivano dal riciclo, privilegiandoli a quelli che derivano da materie prime vergini. Su questo la filiera degli acquisti verdi è decisiva, gli acquisti verdi pubblici e anche quelli privati e bisogna insistere su questo e anche qui valorizzare le esperienze positive che ci sono, come facciamo anche durante l'Ecoforum e durante i comuni ricicloni perché maggiore sarà il mercato dei prodotti ricicli e questo faciliterà ancora di più lo sviluppo delle raccolte differenziali sul territorio nazionale. E questo ce lo auguriamo tutti, grazie Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente. A voi. Grazie a tutti.